Ciao creatura, io sono Eka Desplendente e benvenuta o bentornata nel regno di Kusai, E-S-M-A. Come detto dal titolo, oggi voglio parlare con te di OF, io non so se su Youtube si può pronunciare il nome di questo sito, quindi diremo OF, ma penso che tutti sappiano di cosa stiamo parlando. Per chi non lo sapesse, cercatelo su Google, non scherzo, è un sito dove le persone caricano contenuti che si possono visionare solo a pagamento e praticamente sono tutti contenuti piccanti, un po' frizzantini, ok? E di questo voglio parlare perché avesse cliccato pensando che io ho OF, no, non ho OF, voglio solo parlare di alcune cose, se è un argomento pesante mi dispiace non ascoltarlo, mi piacerebbe sapere la tua opinione a riguardo. Io adesso ti farò una riflessione su quello che penso, su ciò che ho pensato in questo periodo e poi tu mi farei sapere cosa ne pensi, la tua opinione, appunto. Perché avevo detto che mi sarebbe piaciuto fare video dove parlavo di argomenti diversi dicendo la mia opinione o la mia esperienza, non ho esperienza a riguardo perché non ho un profilo, non uso questa piattaforma, questo sito, però conosco persone che la usano, creators, non che usufruiscono. Quindi non fruitori ma creatori di contenuti e ci sono anche persone che all'inizio facevano ASMR famose che poi ci sono tuffate solo in questo sito e adesso fanno solo quella. E ci sono tanti tipi di creatori di contenuti però alla fine finiamo sempre lì sullo stesso tema perché vanno queste cose un po' abbastanza, non so, un po' abbastanza, chi più chi meno esplicite. Allora, ho pensato appunto in questi giorni perché ne ho parlato con diverse persone e spesso mi era stato chiesto su altri social perché non lo apri anche tu. Allora, io non ho niente contro le persone che creano contenuti di questo tipo perché ognuno se se la sente è libero di fare ciò che vuole col proprio corpo. Io non me la sento. Chi mi conosce di per certo non mi chiede di fare OF perché sa cose che mi sono successe nel mio passato di cui non ho mai parlato nei social. Perché non mi sento pronta per farlo. Forse non lo farò mai, forse un giorno lo farò perché potrebbe aiutare qualcuno. Però io non me la sento neanche di parlare di quelle cose quindi figurati. E qualcuno l'ha intuito perché ho problemi di ansia, di depressione, magari alcuni discorsi che ho fatto su altri social. E magari se qualcuno aveva anche intuito però io non farei mai per adesso perché io potrei cambiare idea tra una settimana per esempio. Non credo. Però ognuno è libero anche di cambiare idea. E quindi io cosa penso? Non ho niente, comunque non mi interessa chi fa, chi guarda. Quindi dice, quindi di cosa stai parlando? Il succo del mio discorso. Andiamo al succo. Lo so che potrei parlarne lentamente, farei tanti bei minuti, ma io non so tanto girare intorno alle cose. Io vado direttamente alla riflessione in questo, no? Allora, non farei mai OF per dei miei trascorsi personali, ma anche perché ci vuole tra virgolette coraggio. Nel senso che se tu stai cercando di inserirti nella società, la società ancora non ha accettato questa tipologia di contenuti come una cosa normale, diciamo, ok? Non è socialmente accettata. Quindi ti devi prendere tutte le conseguenze che ne derivano nel prendere questa decisione perché per quanto questa cosa possa essere fatta in modo discreto, anonimo, eccetera eccetera verranno sempre tutti a sapere che tu lo stai facendo, perché è sempre così. Prima o poi tutti lo sapranno. Quindi poi si spargerà la voce e quindi c'è reputazione. Uno può dire, ma io me ne frego, ok? Però se una persona lavora tipo... Scusate, ci sarà stato un taglio qua perché Sam aveva bisogno di me. Allora, cosa stavo dicendo? Se si lavora per esempio, un piccolo esempio a caso, nella pubblica amministrazione secondo me si rischia anche tipo di essere licenziati per una cosa del genere e cioè licenziano professori perché scoprono che sono omosessuali, per esempio. Cioè si sentono ai giornali queste notizie. Figurati se una fa... posso dirlo? Se una sbagiana nei video. Cioè, voglio dire... no. Dopo, se passi, vai a prendere, non so, il pane dal panettiere e tutti si guardano male e parlano di te alle tue spalle. Quello vabbè, uno ci può anche sorvolare a quello. Quindi io penso che lo terrei tipo come ultima spiaggia, nel senso che dovrò trovare un lavoro, sono disperata. Non ho un posto nella società, non sono nessuno. Allora, dici, vabbè, devo sopravvivere, piuttosto di andare a rubare. Faccio OF. Allora, per me avrebbe senso. Cioè, potrei farlo proprio come ultima cosa estrema. Però, appunto, per fortuna non sono a questi livelli, quindi va benissimo così, ecco. Quindi, per altre, invece, può essere tipo Ah, voglio togliermi qualche sfissio spagiano su OF senza problemi, senza pensare alle conseguenze. Oppure, non ha, non lavorano, fa nient'altro nella società che possa questa notizia danneggiare la sua, tra il quale è la reputazione o vita. Allora, lo fa tranquillamente. Ci sono alcune persone, appunto, che magari l'hanno fatto da giovani senza pensare alle conseguenze. Sì, sono conseguenze per qualcuno, per altri possono anche fregarsene. Però, magari, c'è chi adesso non riuscì più a trovarsi il lavoro, oppure mi vengono alcuni esempi, tipo senza fare nomi. C'era, non c'entra con OF, però è un ragionamento, diciamo, una cosa che è successa, che può essere collegata al mio discorso e anche a OF. C'era un'artista ASMR che stimavo, ma stimo ancora, perché non è che ho perso la stima dopo questa cosa. Anzi, mi dispiace che sia successo, perché poi, allora c'era quest'artista che sa la storia, capirà chi è. Io non voglio fare nomi, che era bravissima a fare video ASMR, lo sarebbe ancora se continuasse, ma ha smesso. E poi è venuto fuori che, da ragazza per pagarsi l'università o perché lei aveva deciso così, non so bene il motivo, cioè io so questa versione della storia, poi non so se è quella, però è successo così. Io non so il motivo sicuro di perché ha fatto questa tipologia di video, però so che l'ho fatto perché ci sono i video online e praticamente aveva fatto dei video, si può dire, pornografici, si può dire su YouTube, vabbè. E aveva fatto questo tipo di contenuti e sono usciti finché lei, in quel periodo, faceva video ASMR, aveva un canale ASMR molto famoso, molto bello. Io mi piacevo tantissimo perché era molto dolce, molto rilassante, faceva sentire molto a tuo agio, vederli, sembrava proprio di stare lì con un'amica. E addirittura a volte anche una mamma, per il tipo di contenuto che portava sul suo canale ASMR. E lei stava facendo dei tirocini per il lavoro, ha danneggiato così tanto la sua travioletta immagine che ha dovuto togliere tutti i video dove si vedeva la sua faccia. Ha lasciato solo quelli dove parla, dove si sente la sua voce e basta. E è sparita dai social, cioè è sparita quella persona purtroppo, per colpa di che è venuta fuori questa cosa. Figuriamoci quelli che lo fanno tutto il giorno, cioè nel senso, magari può danneggiare una persona, altre magari se ne strafregano, non gli cambia niente. Però appunto può succedere di essere danneggiati da queste decisioni che magari vengono fatte impulsivamente pensando su soldi facili. Quindi, secondo me, prima di iniziare un percorso del genere, bisognerebbe mettere tutti su carta, scrivere tutti i pro e i contro per decidere se è una buona idea. Ok? Quindi io per adesso non ho intenzione di farlo, io lavoro, lavoro, finché lavoro, poi se non ho quel lavoro ne troverò altri. Però, come creatore di contenuti per adesso, mi piace soltanto creare o cose strane o video ASMR, che sono comunque, penso, considerabili strani da alcune persone. Allora, tutta la mia riflessione, che poi, oltre a questo che ho detto, che forse per qualcuno sarà anche banale e scontato ciò che ho detto, però, o F è una cosa buona o una cosa non buona? Allora, secondo me, da un lato potrei dire che è una cosa buona, perché più gente fa questo genere di contenuti e più si stogma quella cosa che è il sesso, che è una cosa tabù per adesso, no? Il corpo, fare delle cose, non so come dirlo senza essere bannata, determinate cose, il sesso visto come, non dalla chiesa cristiana, visto come un peccato, ma visto come una cosa piacevole, che due persone possono fare insieme, o anche che puoi fare da sola, cioè che si può provare piacere da soli, ecco, e questo penso che farebbe meglio la società, perché si creano dei tabù inutili che poi creano cose come, tipo, non so come spiegarlo senza offendere nessuno, perché mi vengono gli esempi su, tipo, i preti, per esempio, che fanno voto di castità, per me non è normale, perché non è normale per l'uomo, e per la donna in generale, per gli esseri umani, la castità, perché fa parte della natura avere anche la propria sessualità, a meno che uno di natura, di nascita, sia assessuale, assessuato, assessuale, assessuale, sto sì, e quindi non abbia stimoli di nessun tipo sessuali, quindi lui sta bene così, ok, però appunto, la castità per me è contro natura, visto che si parla che l'omosessualità è contro natura, in realtà per me la castità è contro natura, e quindi io toglierei questa cosa dei preti, io preferirei, visto che parlano di famiglie, preferirei che si sposassero, che facessero anche loro una famiglia, così potrebbero parlare di cose che sanno, forse è stata giù un po' pesante, però questo è quello che penso, senza offendere nessuno, ovviamente, senza citare altre cose successe con i preti, però, quello che, diciamo, va a bloccare una cosa che è naturale, poi, secondo me, crea cose brutte, se hai capito, penso che tu abbia capito cosa intendo, a cosa mi riferisco con i preti, se parlassi di più, anche magari nelle scuole, di tante cose utili nella propria vita, piuttosto che imparare cose che poi non ti serviranno mai più, per sempre, appunto, magari fare educazione sessuale, o non guardare al sesso come una cosa, oh mio Dio, immorale, o cose del genere, e far scoprire alle persone fin da un'età, tipo, non so, adolescente, no, in realtà adolescente, sì, come si può dire, far scoprire al proprio corpo, non avere tutto questo timore, e fare tutta questa chiusura, ecco, verso quello che è il sesso, così tutti, sa, viverebbero un po' più leggeri, e educazione sessuale, anche educare chi ha istinti brutti nel farti male agli altri, magari si riuscirebbe anche a, magari, prevenire tante cose brutte che succedono nel mondo, comunque, educare femmine e maschi, ecco, a tutto, non vaina di tutto, insomma, voglio essere inclusive, però, penso che tu abbia capito, spero che tu abbia capito a cosa mi riferisco, quindi, da un lato, penso che, appunto, si possa togliere certi tabù che, secondo me, sono inutili, anche dannosi, dall'altro, però, il mio lato romantico mi fa pensare che si perde, si perde qualcosa, allora, sì, magari si conquista una cosa, però se ne perde un'altra, che è l'intimità, l'intimità che, a cui mi riferisco io, era, del fatto che, lì, sono tutti corpi, come, passami il termine, che non trovo parole migliori al momento, e, svenduti, come, no? Perché il corpo diventa una specie di oggetto che metti in mostra e con la quale non è svendersi, però, sto parlando del mio lato romantico, sbagianare, così, alla merce di tutti, non so come dirlo senza offendere, perché, a parte che, qualsiasi cosa dico, la gente si offende, è impossibile che la gente non si offenda, si quadrifoglio, ah, mi offeso, però, il mio lato romantico lo fa per la perdita dell'intimità, cioè, se io, tipo, mi mostrassi sbagianando, mi mostrassi sbagianando in un video, sarei di tutti, capito? Non so come spiegare, invece, a me piace il fatto che solo la persona con cui sto mi vede nuda, ecco, è una cosa nostra, quindi, quella mi piace, una cosa romantica per me, è una cosa che ha a che fare col pudore, però, non so, il pudore, in realtà, è una cosa, il pudore cos'è, poi? Comunque, me lo descrive il dizionario, un attimo, io parlo più di intimità, allora, pudore, senso di avversione e difesa nei confronti degli aspetti equivoci e morbosi del sesso, ritegno vergogna, il pudore è la vergogna, c'entra sempre col sesso, però il pudore, e non c'entra col pudore, c'entra più con l'intimità, secondo me, c'è perdita di intimità, è tutto alla merce di tutti, insomma, non lo so, questa cosa non mi piace tanto, questo pensiero, nel senso che, se penso a questo, penso che OF sia negativo, se invece penso al fatto che, tolga questa cosa del tabù, mi sembra una cosa positiva, quindi, non lo so, tu cosa ne pensi, qual è meglio, qual è peggio, che esista tra le due cose, e poi comunque, in questa società ancora, non è aperta a queste cose, perché appunto, si continua a paragonare, quei certi contenuti lì, che sono la pornografia, a prostituzione, che in realtà, prostituzione è un'altra cosa, però appunto, mi dispiace anche, quella cosa dell'intimità, un po', cioè, perché per me, un corpo vale l'altro, cioè, a me piace, la persona con cui sto, tutto il resto sono corpi, pezzi di carne, quindi, tra l'altro anche, non capisco, cosa ci sia di bello, nel pagare, per vedere una persona nuda, o per vedere una persona, che fa cose sessuali, io non capisco, perché proprio, il mio cervello, non capisce, cosa ci sia di bello, per, in tutto ciò, poi, sicuramente, chi lo fa, tra il piacere, lo fa volentieri, insomma, nel senso, però io non capisco, soprattutto, lo trovo noioso, e poi, trovo anche, che, sia anche difficile, realizzare contenuti, originali, da quel punto di vista, essendo, allora, pensando a, un ipotetico, di una persona, o che hai a caso, diciamo, di sesso femminile, cisgender, che fa contenuti, appunto, sessuali, da sola, e, parliamoci chiaro, oltre a cambiare, cioè, se passare tra, cambiare completini, intimi, o, vestitini, o, essere nuda, cambiare tipologia di, cose, da, infilare, nei propri pertucci, cosa, cosa simile, cioè, a parte la location, ma cosa cambia, cioè, nel senso, visto una volta, è sempre quello, no? Io, per me, è proprio una roba annoiosa, se facessi O.F., mi piacerebbe fare, contenuti strani, tipo, i feticismi strani, quelle cose lì, piuttosto, lo troverei molto più interessante, però, sarei sempre, nella fascia, dei creatori, che fanno cose di nicchia, che non piacciono a nessuno, quindi, i Master of War, come io, l'unica, che guardava, i Master of War, tutti gli altri, guardavano Nightmare, i Master of War, cioè, chi non li conoscerà nessuno, vabbè, e quindi, niente, non so se, questo genere di video, dove è platero, di cose, riflessioni, cose, ti possa interessare, quando avrò l'occasione, continuerò a farli, e fammi sapere, cosa ne pensi, tu, creatura, T.O.F., e, lo faresti, non lo faresti, pro e contro, è una cosa buona, è una cosa positiva, negativa, fammi sapere, cosa ne pensi, io ci tengo, perché, mi piace sempre leggere, punti di vista, diversi degli altri, e, perché, mi piace tanto, sapere, gli altri, come ragionano, come pensano, e, perché questa cosa, mi fa imparare, anche a me, mi mette nuovi pensieri, mi fa conoscere cose, mi fa, appunto, aprire la mente, ok? Quindi, io ti auguro, buonanotte, buon relax, ciao, creatura!